cari amici oggi recensiamo la nuova leica q3 la nuova fotocamera di roberto no magari allora eccoci qui parliamo della nuova leica q3 una fotocamera compatta di casa leica allora abbiamo testato in realtà abbiamo già fatto la chiacchierata iniziale sono roberto andato a provarla a milano l'abbiamo testata e roberto oltretutto ha fatto anche una sorta di experience reale insomma di prova sul campo perché se l'è portata la sei portata in turchia quindi oggi vi facciamo una chiacchierata e condividiamo poi le nostre impressioni da l'ergonomia qualità d'immagine autofocus eccetera eccetera roberto direi di partire a cannone intanto con tutto sensore nuovo con una risoluzione veramente importante che permette questo di utilizzare le cornici del crop diciamo la modalità crop sino al focale di 90 mm quindi tanta tanta roba mantenendo comunque la qualità buona diciamo che sino a 50 la qualità è molto buona man mano che ti allunghi chiaramente si abbassa un po la qualità però volendo è usabile assolutamente poi c'è la possibilità dei 60 di fare insomma diciamo un un crop delle dell'immagine c'è una comprensione da 60 a 36 a 18 anche per risparmiare spazio sulla scheda tra parentesi peccato che c'è solo una scheda questo è il contro mantenendo comunque un'ottima qualità del file si utilizzano i pixel adiacenti per dire 18 a 36 e ho fatto anche uno scatto di prova per vedere se la qualità d'immagine altiso io non ho visto sinceramente no 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 abbiamo visto se ho fatto anch'io la stessa prova non ho visto neanche io che grosse grosse differenze mi sembrano identici cambia sostanzialmente la risoluzione insomma nel peso del file e il peso del file senti partiamo dall'ergonomia perché la macchina è cambiato soprattutto in un aspetto fondamentale facciamo vedere subito che è il display orientabile qui fuji con la x100v li ha messo un pochino di pepino al seterino a laica perché giustamente per questo tipo di fotocamere cioè street oriented insomma per lo street photographer è veramente tanta roba è molto comodo esteticamente per me l'ha un pochino non dico abbruttita insomma è meno elegante rispetto a la con due ha rotto il suo aspetto teutonico ecco esatto però devo dire che ha fatto un buon lavoro la poi mi sembra anche abbastanza robusto come robusta la macchina perché la macchina sicuramente è un bel blocchetto di metallo si diciamo pesa 760 grammi se non ricordo male e ip52 quindi tropicalizzazione il corpo macchina però ricordatevi sempre ragazzi che l'ottica soprattutto se fate lo switch messo a fuoco manuale messa a fuoco automatica o in modalità macro un po di polvere negli ambienti più diciamo sporchi tra virgolette potrebbe entrare quindi attenzione a questo aspetto e se la mandate da laica ovviamente insomma questo è normale e nuova batteria ma soprattutto insomma l'autonomia della batteria come te sembra la batteria l'autonomia non è che sia in granché nel senso fai 300 350 scatti dipende poi come utilizzi i sistemi di mira quindi ci stanno aggiornati intera da turista o da street fotografi però è meglio avere un altro discorso specialmente poi se fate video i video veramente succhiano tantissima batteria senti a livello generale di usabilità tra menu e proprio ergonomia della macchina usandola sul campo oltre che per fare dei test io tra l'altro vabbè io ho avuto la prima laica q proprio la prima serie quindi mi sono trovato abbastanza a casa devo dire la verità allora la cosa che mi è mancata di più è il joystick è vero che c'è il pad a 4b è però è facile andare a pigiare il pulsante centrale con joystick sicuramente lavori molto meglio anche perché ho utilizzato la macchina sempre in autofocus singolo con un puntino abbastanza grande perché proprio per mia abitudine nel senso non utilizzato riconoscimento occhi visi eccetera mi è piaciuta tantissimo la ghiera di diaframmi con degli scatti molto molto precisi mi è piaciuta la funzionalità macro perché volendo ti permette di andare a 17 cm dal soggetto con un'ottima qualità di immagine ti dirò che anche rende molto bene l'obiettivo modalità macro a me è piaciuto molto anche la mi piace molto anche la messa a fuoco manuale è una delle migliori in assoluto nel mondo del fotocamere mirrorless esatto e poi la semplicità personalizzazione tipica di like della macchina nel senso io voglio per posso personalizzare dei pulsanti 12 2 pulsanti posteriori nel retto della macchina non devo andare nel menu ma basta pigiarli a lungo vado a selezionare la funzione da assegnare si è proprio la scuola like ma si vede traspare e anche il menu è gestibile bene per me il menu è bellissimo a parte mi piace tantissimo la grafica molto semplice e lo stile like che è molto piacevole e molto funzionale poi quello che conta è quello quindi è una macchina che si adopera bene. Senti questa ghiera qui di lato come ti sei trovato tu? All'inizio è un po' male devo dire la verità perché c'è poco c'è poco spazio per il pollice anche un po' incassato diciamo. Puoi però ti abitui come ci si abitua a tutto si è anche questo i movimenti sono molto secchi e precisi ho goduto tantissimo il pulsantino impostato sul valore di ISO una macchina che dopo un paio di giorni adoperi praticamente occhi crudi tranne ripeto. Si è comodo il valore ISO perché a quel punto ha i tempi i diaframmi e ISO e le reghiere che secondo me dovrebbero essere messe per legge insomma per la macchina fotografica. Per quanto riguarda la scheda, la scheda è un solo slot? Un solo slot, purtroppo, una macchina di questo livello insomma due slot? Si volendo ce ne stavano due però è una filosofia che insomma ha impostato l'eica su questi tipi di macchine è chiaro che dovete avere una scheda capiente perché i file comunque se utilizzate la piena risoluzione sono ben pesante circa 70 mega l'uno quindi con la scheda la 64 per capire ci stanno circa 500 foto che non è che sia poi un gran caso. Senti mirino, mirino aggiornato, migliorato, più definizione 5.6 cioè come ti sei trovato? Io mi sono trovato bene senza occhiali ma tu con gli occhiali come ti sei trovato? Mi sono trovato bene anche con gli occhiali ma aspettavo invece di solito i mirini laterali sono un po' difficoltà per i portatori gli occhiali invece è un mirino ottimo direi una bella risoluzione l'unico punto negativo anche impostato a 120 fotogrammi secondo come refresh in ambienti scuri se ti muovi velocemente scattereggia un po'. Si un pochino poi e poi quando metti tieni premuto quindi a fuoco sia in continuo che in singolo si abbassa un po' la qualità della diciamo della visione come questo succede in molti mirini. Senti stabilizzazione fotogramma è una stabilizzata sull'ottica. La stabilizzazione come foto a parte che è un 28 mm ragazzi quindi anche a mano libera c'hai della pancia però arrivi a un quarto di secondo un ottavo di secondo quindi quei tre quattro stop con tutta tranquillità per uno che ha il delirium tremens come me. Nel video invece non è che sia una cosa trascendentale. Diciamo da fermo va bene il movimento ci vede un pochino di più si sono d'accordo stabilizzazione non è diciamo al pari di un s5 o di una panasonic s5.2 per parlare in casa insomma diciamo nel gruppo alle mount e questo è ovvio ma non è una fotocamera per fare video cioè ce li fai e sono anche qualità molto buona sono la qualità video è sicuramente bella anche perché i colori laica sono oggettivamente molto ruffiani come dico io sono ruffiani insomma sa che attivanti non c'è non c'è ombra di dubbio. Parlando scusa di profili laica c'è la possibilità di scaricarne di ulteriori profili sul sito di laica tramite l'app potete scaricare tanti profili che simulano varie pellicole quindi questo è un plus per chi vuole divertirsi con... non è cosa non è cosa poco da poco senti parlando un attimo del discorso sempre riguardo alla funzionalità parliamo dell'autofocus prima della qualità d'immagine allora autofocus singolo abbastanza veloce io ti dico la verità non ho visto un salto di qualità rispetto alla Q2 questa è la mia impressione però nell'uso pratico ti sei hai perso degli scatti ti sei sentito limitato? Allora in qualsiasi modalità ambientale come intensità di luce io problemi grossi non ne ho avuti certo c'è di meglio però l'autofocus singolo non con il punto spot con il punto diciamo standard è sufficientemente veloce ho perso pochi scatti nel senso che quando ho voluto cogliere l'attimo alle volte la macchina mi ha fregato ma anche perché non hai che la conosca benissimo utilizzandola nel settimana pieno però bene o male la macchina risponde bene è vero che se volendo volendo puoi utilizzarli per focale ma questo è un altro discorso quello che non ho utilizzato assolutamente è il riconoscimento occhi anche se funziona cioè l'abbiamo testato ovviamente abbiamo fatto delle prove eccetera diciamo che aggancia bene anche il tracking una volta che il soggetto esce rientra dalla 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 zona viene agganciato velocemente mi ricorda un po quello dell' s5 2 no allora teoricamente la insieme a panasonic c'è il progetto l2 quindi il lavoro ne sviluppano insieme adesso esattamente quale tipo di tecnologie si siano scambiati questo è arduo saperlo l'autofocus la dito di con la mia sensazione in singolo si c'è sicuramente di meglio però è noto focus che assolutamente ti permette il punto e scatta che poi la cosa importante in questa fotocamera nel continuo mi è sembrato che fa il suo sporco lavoro come si suol dire in condizione più scarsa magari perde un po il riconoscimento del volto non è male diciamo è l'ideale se c'è un soggetto singolo se ce ne sono più del soggetto fare col touch selezionare comunque quando ci sono tanti soggetti vedi talmente tante sembra un po' un iphone si vedi tanti quadratini che impazzisci un po quindi diciamo che in singolo cioè con soggetto singolo va bene ma con tante persone meglio la sia a perdere si vabbè poi ragazzi noi non siamo dei grandi stimatori del riconoscimento del volto quindi portate pazienza e cos'altro su riguardo dell'autofocus comportamento insomma dai no no la macchina che per fare street che è la sua moto si per fare anche del paesaggio e nessuno lo vieta certo però però funziona benissimo si funziona funziona assolutamente bene senti cominciamo a parlare di qualità d'immagine prima di tutto colori laica cioè uno dei punti di forza insomma di laica sono sempre i colori tant'è che con panasonic hanno appunto uno dei diciamo dei motivi di scambio è proprio da parte panasonic riuscire a valorizzare tutto il know how che laica nel mondo del colore insomma legato alla all'immagine generale quindi colori veramente belli non super fedeli e sono un pochino più interpretati però veramente belli tra l'altro bello anche il profilo in bianco e nero specialmente il profilo bianco e nero spinto si sono un profilo bianco e nero standard quello spinto ha una bella grinta abbastanza ricorda alcune pellicole insomma alcune pellicole ad alti ISO secondo me la resa è diciamo molto buona considerando che è un 60 milioni di pixel considerando che è un sensore moderno non so se sei d'accordo sul discorso assolutamente si è paragonabile sicuramente a una sony a7r5 siamo su quei livelli quindi ormai diciamo che la i sensori buyer hanno raggiunto ormai una qualità paritetica nel senso vi dovete aspettare da un 24 milioni di pixel quella tenuta i 60 in effetti mi meravigliano un po' perché comunque questo è un ottimo sensore mi ricorda tanto quella dell' s1r per dire no che un sensore eccellente con una bellissima tenuta agli alti ISO e questo secondo me parente stretto quindi un'ottima combinazione e ho notato anche comunque che l'obiettivo è molto tagliente è vero che sicuramente ottimizzato a livello software sì assolutamente sì certo però quando la messa a fuoco è molto spesso e precisa vedi proprio un bello stacco dei piani e uno sfocato tutto sommato meno lo sfocato è bello è chiaro che se tu lo apri con rodiger insomma con il software dove togli tutte le correzioni vede una distorsione importante l'angolo di campo che si avvicina al 24 più che al 28 nella realtà insomma diciamo che è fortemente ottimizzato a livello digitale però la resa comunque molto accattivante sì assolutamente resistenza al flare tutto sommato sì allora se proprio lo vai a cercare il flare e viene fuori no cioè se fai in inquadratura prendi il sole direttamente in macchina ok però diciamo che il comportamento cioè in obiettivo ci mancherebbe con quello che costa sì assolutamente di livello senti sempre qualità d'immagine gamma dinamica considerando sempre la densità dei pixel e quindi conseguenza la dimensione del singolo pixel la gamma è buona non è stellare cioè è una gamma dinamica diciamo appunto come detto poco fa ti può aspettare da un sensore 60 mili pixel diciamo che la solita test della sovra e sotto esposizione fa i più 2 e meno 5 è il solito standard quello che ho notato è che in scatti normali fotografando una scena che ha circa 6 7 stop di gamma dinamica io ho fatto una misurazione spot sulla sulle alte luci sulle basse luci lo tiene e quindi questo è poi è quello che mi serve poi hai anche l'alert per quanto riguarda le alte luci volendo non invasivo tra l'altro questa è una cosa che mi piace però ragazzi attaccatelo è basilare sì perché perché proprio lì che poi andate poi sulle alte luci non ha cioè a due stop ma non è il punto di forza secondo me della della gamma dinamica e comunque qualità d'immagine complessiva molto molto alto ovviamente insomma parliamo di sensore full frame casa laica e cioè non fatto da laica ma diciamo ottimizzato da laica e poi ovviamente con tutti appunto il know how di laica quindi insomma qualità d'immagine sicuramente di alto livello una cosa che mi piace molto roberto è l'otturatore centrale nell'obiettivo questo permette l'high speed real cioè insomma la sincronizzazione con il flash senza però dover andare a mettere in high speed quindi cala la potenza fino al 2000esimo e quindi puoi sfruttare il flash a piena potenza con degli effetti anche no particolari se poi che anche qua scusa da meno se ci pensi è molto legato alla street ci sono tanti fotografi di street che sparano il flash con delle sottoesposizioni importanti della luce ambiente sì questa è una cosa molto bella allora tirando un po le somme tre cose che ti piacciono e tre cose che non ti piacciono vediamo se sono le stesse che penso io insomma condividiamo un po anche questo pensiero allora tre cose che mi piacciono è la sensazione di qualità del corpo macchina l'ergonomia e ci metto dentro se i tasti sia il menu veramente semplice e poi il risultato finale quello che la macchina mi da queste sono le cose che mi piacciono di più quelle che mi piacciono di meno è l'autonomia della batteria e avrei preteso magari sai fai una giornata intera fai 12 o 13 ore in giro per la turchia se utilizzi sempre la macchina sicuramente rimane a piedi ripeto la mancanza del joystick e ci avrei messo una doppia scheda perché le schede le prendete veramente di altissima qualità se no vi possono fregare sì allora su incontro sono assolutamente d'accordo con te tant'è che se io insomma mettiamo volessi utilizzarla nei servizi matrimoniali non l'utilizzerai per questa ragione che l'autonomia troppo scarsa è vero può comprare più batterie ma costano seconda cosa più grave di tutti è la mancanza del doppio slot perché comunque una macchina pro e quindi onestamente doppio slot obbligatorio e poi insomma diciamo mi trovo un po con quello con tutti gli aspetti negativi che hai citato il joystick sì effettivamente senti un po la mancanza ma più che altro perché i tasti a quattro vie non sono proprio comodissimi sugli aspetti positivi io metto il display orientabile che sono da me tanta roba il mirino che è migliorato perché su queste macchine insomma di questo livello secondo me è obbligatorio e poi mi piace molto discorso delle synchro flash perché la rende uno strumento diciamo unico e particolare insomma è vero ce l'ha anche l'X100V però insomma è una cosa figa per questo tipo di macchine e otturatore estremamente silenzioso anche meccanico questa è una cosa che mi piace molto posso mettere due contro in più il prezzo perché comunque ragazzi è vero uno che ama laica comunque sono 6 mila euro non sono pochi sono 12 milioni io sono vecchio 12 milioni delle vecchie lire e un po la fipa la strizza che ti viene quando vai in giro perché ti dico quando venire in giro ma anche a Parma ma anche specialmente poi in ambienti tipo Turchia non so se era una cosa mia psicologica ma sentivo gli occhi addosso perché comunque quel marchetto rosso qua effetto fa quindi macchina attaccata al collo ben allacciata e poi c'è la figa che se ti cade e poi il porto d'armi se ti cade si è rovinato quindi va beh chi ha laica c'è abituale ma soprattutto chi se lo può permettere veramente laica questo problema non c'è non è un contro chi invece fa fatica e magari la pagarate secondo me questo questo è un'ansia che che vivrà va bene ragazzi vi abbiamo raccontato un po' la nostra esperienza utilizzando la laica Q3 fateci sapere cosa ne pensate se avete domande specifiche fatecelo sapere noi cerchiamo di rispondere e forse no no vi risponderemo insomma prodotto sicuramente interessante tutto sta nel capire se per voi vale la pena da puntista economico oppure no ragazzi ci vediamo alla prossima recensione ciao